Scusate. 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 Non mi vedi che sono in intimità con la mia moglie? Stiamo ancora a zero, lo sa, non ti preoccupa. Ma che ti... Ciro si è finito che è un infermiera. Che significa che hai scappato? Ha sparato in una motocicletta e l'ha portato. Sapeva di stare d'accordo con un salernitano. Che cosa? Ciro ha organizzato la guada. Un vici, Ciro non è non fama. Un problema è che è un infermiera. Secondo me, questa la conosce proprio buona. Ma tu la conosci questa? Io non l'ho mai vista. Io non l'ho mai vista niente. L'ho mai vista solo che aveva saputo. Sapeva già. Ha perso il cervello. Stiamo perdendo la Ciro. Ha perso la Ciro. Maria! Calma, ti dicevi che ti si apra la ferita. Già si è raputo cosa. Questa ciambella fa schifo. Allora è cattato. Un uomino bianco. Tutta colpa a te, Maria. E che c'entri? Ciro era un ragazzo normale quando l'abbiamo conosciuto. Poi per la fissazione dei film. Lo cinema. Mi ha fatto studiare il karate e ti fa diventare brusoli. E che male c'è, scusa? Mi ha avuto a chiamare anche il cacchio giapponese per farci la bruca. Prima di tutto chi è giapponese era cinese. Chen Zhang Wu. Bello nome. Il più grande maestro in Shanghai. Capito? Invece è un stand man che ha imparato a portare la motocicletta con me? Filippino? No, io li ero buzzuoli. Stand man è buzzuoli? Oh. Bella. E invece il 007? Ho lanciato le cortielle, le spettere esplosive. Eh, finché ti ha fatto comodo, ti è piaciuto una tigra che ti faceva la guardia, eh? Eh, però la tigra l'hai fatta diventata tu. Non dico di Hollywood e ora ci sta facendo la guerra. Basta, vice. Piangere il passato non serve. Gli uomini forti. Affrontano il presente per costruire il futuro. Invece gli uomini in merda si dimenticano del passato per rompere la gente onesta come noi.